Ritorniamo a noi, professor Noci, che ne pensa dei risultati del sondaggio? Innanzitutto buongiorno a tutti, è per me un grande piacere essere qui nuovamente per un confronto con voi. Cosa ne penso dei risultati del sondaggio? Allora, penso che evidentemente l'obiettivo della redditività sia un obiettivo molto sano, no? Quindi molto bene che si focalizzi sulla redditività. Vorrei, su questo diciamo molto male, invece sull'intelligenza artificiale, non male, malissimo. Quindi su quello, ne parliamo, malissimo su quello. Però per raggiungere l'obiettivo della redditività uno si deve chiedere appunto che cosa fare. E riprenderei quanto detto da Federico, poc'anzi, Federico richiamerei tra le numerosissime cose interessanti che ha detto, richiamerei due cose, il concetto di galleggiamento e il concetto di strategia. Allora, il concetto di galleggiamento è un concetto, come dire, che non vorrei vi rilassasse, perché la quiete prima della tempesta. Il galleggiamento, secondo me, e lo condivido, è quella condizione che ci dà due anni per evitare di annegare. Perché secondo me è questa la situazione. Noi, caro Roberto, rischiamo di annegare. Perché rischiamo di annegare? Perché le trasformazioni che dobbiamo portare avanti sono trasformazioni importanti. e quali sono queste trasformazioni, ma soprattutto quale strategia mettiamo in campo per consolidare quello che è la nostra presenza e per andare alla crescita che veniva precedentemente nucleata. Io cerco di fare alcune considerazioni. La prima considerazione che voglio fare è che assumere che i volumi di prodotto, attraverso una strategia di sconto, di acquisto, io sostengo la redditività, ci porta a morire. Non è più il momento in cui si gioca la partita sui volumi di acquisto, sui volumi di vendita. La partita si gioca sulla qualità del servizio che si offre. E anche perché è quasi tautologico dire che essendoci e-commerce più logistica, sempre più strutturata, se voglio prodotto e lo voglio a basso costo non passo da voi, ok? Non vado da Amazon, ma vado da qualcuno che ha una catena del valore strutturata in quel modo, per darti costo, basta. Quindi, e questo tipo di partita noi non la giochiamo e non la vogliamo giocare, dobbiamo giocare tutt'altra partita. Quindi, la partita non è sul volume di prodotto, e voi peraltro l'avete esplicitato, quando ho detto non voglio, ma non è il fatturato la variabile rilevante, ma è la redditività, lo avete detto. Allora, la partita si gioca tutto nella interfaccia col cliente, nella capacità di andare oltre il prodotto. Per andare oltre il prodotto che cosa serve? Allora, per andare oltre il prodotto serve una chiara visione del processo d'acquisto, del mio target di mercato. Allora, il tema è, fissiamoci un target di mercato, che target di mercato vogliamo avere? La domanda è, vogliamo essere ancora generalisti? Federico parlava prima di data center, non parlava di data center logistica, ma io vi dico i data center, Zanutto che è di Milano, sulla A4, 6 miliardi di investimenti in data center nel prossimo anno, nei prossimi due anni. Ma supportare la costruzione di un data center è uguale a supportare la costruzione di un appartamento? Probabilmente no. Quindi, la prima domanda è, qual è il target che io voglio servire? Ed è una domanda molto sana, perché guardate che la mia modestissima sensazione è che sarà difficile avere una proposta general purpose, valida per tutti. E come dire, e del resto, essere, come dire, non abbiamo tempo, perché bisogna parlare ora, ho ricevuto tantissimi stimoli dal dibattito, cioè, è chiaro che Milano è diversa dalla provincia di Cremona, no? E se, quindi, sta cambiando davvero tutto, e quindi su questo noi dobbiamo capire chi vogliamo servire. Quindi io personalmente, la domanda che, quando dico, definisco la strategia, no? La prima domanda è, poi senza strappare, cioè, non è che devo farlo subito, ma negli anni in cui galleggio, ho bisogno di andare in quella direzione, ok? Perché altrimenti non c'è passaggio generazionale che tenga, e questi cambiamenti non avvengono in un giorno. Quindi la prima domanda è questa qui. Ed è, da questo punto di vista, poi, la seconda domanda è, che cosa offro? Il che cosa offro, io evidentemente, posso, come dire, una scelta è di fortissima specializzazione, quindi mi concentro e sono specializzato in uno specifico settore, data center, RSA, quello che è, e questo comporta, però, un'espansione territoriale, cioè, non mi posso permettere di essere, come dire, a Verona, devo essere specializzato e servire porzioni ampie del territorio. L'altra opzione è l'opzione secondo la quale io allargo lo spettro di offerta. Guardate che, per mia fortuna, mi capita di essere in molti eventi. Tutti si stanno domandando dove allargarsi. Tutti. Ma è talmente vero questo, che chi ha le reti di vendita, aveva prima le reti di vendita in cui aveva chi serviva le utility e chi serviva le telecomunicazioni. Tutti fanno tutto. Poste fa tutto. Enel fa tutto. Entra in casa. Le assicurazioni fanno tutto. Tutti tendono a fare tutto. Perché? Perché quella che conta è la relazione col cliente. Capite? Quindi la domanda, voi ve la dovete porre in questa direzione. Io, che spettro di offerta ho? Definisco. avendo ben presente che non è il prodotto che fa la differenza. È una condizione necessaria. Ma quella che fa la differenza è la mia capacità di tenermi stretto il cliente. E per certi versi, voi, noi siamo in una posizione privilegiata in questo momento. Fra poco non più. Ma in questo momento il presidio del cliente l'avete voi. Non ce li hanno altri. Attenzione che ve lo strappano però. Se dormite ve lo portano via. Ve lo portano via. Quindi, questo è il secondo elemento. E in questo la tecnologia, quindi comincio a entrare nel tema della tecnologia, la tecnologia gioca un ruolo chiave. In particolare le tecnologie digitali giocano un ruolo chiave. sia che io abbia un portafoglio stretto di offerta, cioè sia molto focalizzato, sia che io abbia un portafoglio più largo, quindi dall'edilizia vado al fotovoltaico, all'idrotermosanitario, gliene aggiungo altri. Attenzione, io vedo il mondo dell'elettrotecnica e il mondo dell'elettrotecnica si sta allargando in quest'altra direzione. Quindi, attenzione che sono, come dire, è bidirezionale la cosa. E quindi tutti cercheranno di allargarsi e chi si allarga per primo poi conquista la relazione con il cliente. Quindi, attenzione alle entrate da mondi laterali. Arrivano, stanno arrivando. La tecnologia entra ovunque. Perché entra ovunque? La tecnologia, uno, alcuni dei video che avete visto qui ve lo hanno detto chiaramente. Alla fine, chi viene da voi e se voi volete presidiare la relazione non ha bisogno solo del prodotto ma ha bisogno di essere supportato in fase d'uso di quel prodotto. Quindi qui ci sono, vi cito alcune suggestioni, non ho tempo di entrare. Gemelli digitali degli edifici, gemelli digitali dei cantieri, simulazioni di quanto può avvenire, utilizzo dell'intelligenza artificiale prima che su un determinato suolo si debbano fare operazioni. Quindi gemello digitale, intelligenza artificiale per supportare la parte di progettazione. Quindi capite che voi andrete molto velocemente a integrare nella vostra offerta le tecnologie digitali perché la vostra offerta non sarà più un'offerta di prodotto solo, sarà un'offerta di prodotto più servizio e il digitale vi offre gli elementi di servizio che ai vostri clienti servono e che a voi chiedono perché perché io devo venire dall'amico napole-salernitano cosa mi dà? Mi dà il prodotto non mi interessa mi devi dare qualcosa di diverso se no alla fine non vengo più da te alla fine o vengo da te solo se mi dà il miglior prezzo ma allora la redditività ragazzi l'ho persa quindi l'ecosistema digitale diventa è come se diventasse una componente prodotto che va esattamente nella direzione che abbiamo detto mettere al centro il cliente per consolidarne la relazione e per poi portare a una crescita di redditività questo è un primo elemento fondamentale è evidente che le tecnologie digitali giocano un ruolo altrettanto importante in tutti i processi decisionali quindi le tecnologie digitali sono strumento che voi potete utilizzare per aiutare i vostri clienti nel contesto d'uso perché io quando l'ho già detto un'altra volta quando io vado da Unieuro non mi interessa niente che mi dia il televisore mi deve far funzionare il televisore questo è quello che a me interessa e spesso il televisore non lo so far funzionare quando me lo danno allora chi vince non vince l'unieuro che mi dà il televisore vince colui che mi dà il pacchetto complessivo allora su questo Roberto io sono preoccupato sono preoccupato perché non voi attenzione non voi ma in qualsiasi contesto italiano vada abbiamo un problema di non consapevolezza del ruolo che le tecnologie digitali giocheranno a supporto dei relativi processi di relazione col mercato guardate che la stanno pagando i tedeschi cioè i tedeschi Volkswagen comincia a licenziare per questo motivo licenzia perché hanno affrontato la progettazione delle auto nuove con la concezione meccanica manifatturiera guardate che sono palle quando vi raccontano che i cinesi entrano perché l'auto è elettrica e sono i sussidi sono le cazzate che raccontano a noi per imbonirci e per no i cinesi hanno concepito l'auto come uno smartphone e vincono per quello non vincono hanno già vinto ok quindi il tema di fondo è che noi dobbiamo abituarci a concepire l'oggetto casa edificio e quant'altro e l'oggetto e il processo costruttivo come processi che cambiano in relazione alla disponibilità delle tecnologie digitali e voi giocate un ruolo straordinario potenzialmente a supporto di questo ma capite che allora strategia vuol dire un'altra cosa vuol dire piena coscienza del ruolo delle competenze ecco mi ha fatto piacere quando qualcuno prima parlava di formazione ma non è la formazione di prodotto solo che anche qui è scontata cioè se devo venire in un punto vendita o mi dai un servizio sono di che cosa stia parlando ma è tutta la necessità di upgrade di competenze guardate che l'esempio tedesco è l'esempio la palissiano guardate che i tedeschi diventeranno malati d'Europa il malato pesante d'Europa e noi rischiamo di andarci dietro molto rapidamente quindi questa cosa qui davvero il tema di prendere coscienza del ruolo che le tecnologie digitali hanno ma non solo per efficienza per efficacia per supportare la relazione e il processo del vostro cliente voi non dovete come dicevamo cioè io non devo vendere il trapano io devo aiutarti a fare il buco e il trapano è uno strumento più ce ne sono altri allora se io ragiono come un soggetto che ti aiuto a fare il buco e con le tecnologie ne avete visto qualche video qui no? allora io davvero mi candido ad essere true friend a essere vicino al mio cliente cliente che evidentemente diventa non può più essere quell'oggetto misterioso che noi conosciamo semplicemente perché viene fatturiamo andiamo alla bolla e fatturiamo no? dobbiamo conoscere i processi e questo ci riporta al tema dell'eventuale focalizzazione che è una scelta strategica guardate che secondo me è la scelta più importante dei prossimi anni voi dovrete interrogarvi sede in che misura qual è il portfoglio di mercato che volete servire e attenzione è impensabile impensabile metterci a 5-10 anni data e ritenere che il modello di vendita che c'è in provincia di Cremona è lo stesso modello di vendita che c'è a Milano quindi permettetemi quindi la tecnologia diventa davvero un elemento cruciale ma la tecnologia si porta dietro le persone allora sulle persone io mi permetto devo finire se non sbaglio quanto ho ancora? 2 minuti? 5 minuti quanto ho? 2 minuti? 2 minuti 1 minuto 2 2 minuti 2 minuti allora il io in questi mesi ho deciso di lavorare molto con i giovani è 9 mesi che lavoro con i ragazzi dai 13 ai 18 anni una scelta che ho fatto perché continuavo a sentire i giovani sono fannulloni i giovani cioè le cose che allora io ho detto facciamo così me lo posso permettere voi guadagnate i soldi io penso quindi non quindi vado a pensare e vado vicino a loro ecco io devo dirvi che ho scoperto una realtà straordinaria nettamente migliore alle mie più rose aspettative nel senso che i giovani non sono i fannulloni che pensiamo non hanno molte delle caratteristiche sono certamente idealisti di una serie di cose però hanno il primo tema non li ascoltiamo e invece dobbiamo ascoltarli e attenzione che se non li ascoltiamo e non li capiamo nelle nostre altro che passaggio generazionale non ci saranno operatori perché io sto lavorando in questo momento con giovani di Cremona di Brescia e di Mantua i figli degli immigrati se ne vogliono andare da qua avete capito? non i nostri figli i figli degli immigrati quindi c'è un tema gigantesco di lavoro che deve essere fatto per l'attrazione di questi giovani e io personalmente vi invito quello che sto facendo sto cercando di mettere insieme le imprese e gli istituti scolastici perché non si parlano non impariamo il tempo di entrare nel merito ma non si parlano e i giovani poi siccome vale sempre la voce negativa ai giovani si dice che fa tutto schifo quello che c'è in Italia e quindi per definizione se ne vanno quindi attenzione al tema giovani il tema risorse umane è probabilmente il più grande vincolo alla vostra crescita futura non sono i soldi i soldi come dire ero l'altro giorno con la banca d'Italia e con il magistrato legato della borsa italiana noi sediamo su una montagna di soldi parcheggiati che è spaventosa non ricordo neanche la cifra ma è incredibile quindi il tema non saranno quelli il tema sono le uomini e donne quindi il tema delle risorse umane è un tema davvero importante e guardate di non commettere l'errore di ritenere che loro la pensano come noi non la pensano come noi ma è sbagliato dire che siccome non la pensano come noi abbiamo ragione noi perché il risultato è la divergenza e noi invece dobbiamo riconvergere rispetto a questo tipo di tema quindi il tema delle risorse umane è decisamente un tema a mio modesto avviso centrale perché poi la differenza la faremo combinando quelle tecnologie che ci siamo detti con la qualità delle persone dove la qualità delle persone farà la differenza evidentemente perché le tecnologie sono al servizio delle persone chiudo sul tema dell'intelligenza artificiale purtroppo e a me spiace piange il cuore vedere quel dato sull'intelligenza artificiale che abbiamo visto purtroppo devo dirvi è frutto delle stronzate scusate il termine che vi vengono raccontate non è possibile che il dibattito sull'intelligenza artificiale sia solo su dimensione etica e sostituisce il lavoro umano o no è purtroppo il miglior modo per portarvi a quel dato lì ma il tema è che mentre voi perché vi portano a quella consapevolezza lì gli sloveni i tedeschi ma lasciatemi dire gli americani e i cinesi vi do un dato l'Italia sull'intelligenza artificiale mette 500 milioni di euro la Francia mette 30 miliardi l'Europa investe il 2% di quello che investe gli Stati Uniti ma cosa pensate che il nostro dibattito sortisca qualche effetto nel resto del mondo non lo sortisce gli altri stanno investendo pesantissimamente perché l'intelligenza artificiale non sostituisce l'uomo aiuterà l'uomo cambiando in parte il lavoro allora il vero tema è che cosa fare e come cambiare per incorporare l'intelligenza artificiale questo è il vero tema ma ripeto non sono sorpreso cioè hanno portato il Papa a raccontare al G7 dell'intelligenza artificiale che cazzo ne sa il Papa di intelligenza artificiale viene a parlare alle anime viene a parlare ma non mi venga a parlare di intelligenza artificiale è la caccia alle streghe sono la caccia alle streghe del passato siccome l'intelligenza artificiale che non è intelligente non è intelligente non è intelligente ma l'intelligenza artificiale semplifica la nostra vita e siccome la semplifica noi la useremo peraltro siamo già in vasi di intelligenza artificiale perché quando io prima quando il tedesco parlava c'è ancora il nostro amico tedesco, dov'è? dato via, quando lui parlava non avevo le cuffie, ho usato Google Translett, sistema di intelligenza artificiale e mi ha tradotto tutto è etico o non è etico? me ne fotto, è semplice e siccome è semplice si usa questa è la cosa che dobbiamo capire adesso voi la vedete a dieci anni data ma guardate che per arrivare a usare l'intelligenza artificiale e qui chiudo, serve una materia prima di cui noi scarseggiamo dati 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 noi siamo in astinenza di dati pensate alle vostre aziende io vedo c'è una compagnia assicurativa famosissima in Italia che ha problemi vuole utilizzare l'intelligenza artificiale perché adesso lì no? a questi qui vanno nelle cene tra di loro tra amministratori delegati si dicono ma tu che sistema di intelligenza artificiale hai? e tutti no? è in guerra allora devo andare a chi? va a casa e dice ma noi non l'abbiamo e tutti la vogliono mettere poi vai al concreto ma su che cosa addestri quei modelli di intelligenza artificiali se non hai i dati? e in una delle aziende in cui ho interagito perché non avevano i dati? perché banalmente i sottoscritti coloro che diciamo gli agenti delle compagnie assicurative non facevano firmare i moduli privacy perché non facevano firmare i moduli privacy? perché una volta che ha sottoscritto la polizza dico non rompo più le balle al cliente ha sottoscritto la polizza via! ha perso la parte più importante perché quella polizza lì l'hai venduta ma devi pensare a tutto quello che dovrai vendere in futuro e l'intelligenza artificiale ma al di là dell'intelligenza artificiale perché adesso è tutto intelligenza artificiale i sistemi di tecnologie digitali sono strumenti che ci aiutano moltissimo macinando dati a personalizzare a gestire al meglio la relazione con i nostri clienti quindi io credo che noi dobbiamo vivere questo galleggiamento caro Federico è un galleggiamento vigile è un galleggiamento vigile un galleggiamento vigile che deve avere una strategia questa strategia ci deve portare alla consapevolezza che dobbiamo cambiare alcune componenti della nostra ricetta nella nostra ricetta il tema delle tecnologie la scelta del target di mercato è fondamentale ma due componenti sono centrali la prima componente è la componente della tecnologia e la seconda componente è la componente umana persone e le fondamenta le fondamenta di questa nuova casa che sono i nostri futuri centri di distribuzione che non so se chiameranno più centri di distribuzione centri di consulenza in cui passa anche il prodotto non vedetevi più come centri di distribuzione vedete come centri di abilitazione alla costruzione elevatevi elevatevi io credo che se stiamo su queste basi potremo ottenere un grande successo avanti così